Un saluto a tutti i miei studenti delle classi terze, oggi ci troviamo a commentare gli impressionisti e come al solito partiamo da un breve commento del titolo della presentazione la rottura definitiva con le accademie. Ecco questo è sicuramente uno dei punti più importanti dell'impressionismo gli artisti che volevano dire qualcosa di nuovo si staccano definitivamente dalle accademie, quindi dai professori quindi dalle mostre organizzate all'interno delle accademie. Gli artisti si staccano completamente e si organizzano in proprio vedremo che questo è proprio uno dei passi che faranno gli impressionisti. Al solito vi saluto chiudendo la finestra video e continuiamo questo viaggio nell'impressionismo insieme alla presentazione Entriamo e diciamola che la prima slide ci presenta uno schema, adesso voi non lo vedrete con estrema chiarezza perché scritte sono molto piccole, ma io vi leggo quanto dentro la mappa è colorato di giallo proviamo a mettere insieme questi concetti come una lista della spesa luce e colore, fotografia, pittura giapponese, en plein air, studio del fotografo Nadar, Francia ecco ve le ho lette quasi tutte e sono alcuni dei concetti basilari dell'impressionismo perché poi l'impressionismo nasce e si sviluppa in Francia la prima mostra degli impressionisti è tenuta nel 1874 appunto nello studio del fotografo Nadar interessante questa cosa, la prima mostra degli impressionisti dentro lo studio di un fotografo en plein air ci porta alla prima invenzione importante che va a rivoluzionare l'arte cioè l'invenzione dei tubetti di colore industriali ecco con questi tubetti di colore si riusciva ad andare a dipingere all'aperto mentre prima era impossibile perché bisognava preparare i colori in studio quindi non si sapeva come portarli fuori la preparazione era complessa invece qui con dei comodi tubetti si può andare all'aperto col cavalletto e dipingere direttamente per esempio dei paesaggi utilizzando i colori in tubetto quindi la prima è un'invenzione legata alla chimica la prima che andiamo a sviscerare poi abbiamo la pittura giapponese perché sarà grande l'influenza dell'arte giapponese sull'impressionismo in particolare arrivano in Europa le stampe, le litografie di arte giapponese avranno una grande diffusione e molti artisti come per esempio Monet si ispireranno all'arte giapponese fotografia naturalmente è la seconda invenzione l'invenzione della fotografia molto importante, rivoluziona l'arte perché gli artisti devono un po' ripensare il loro lavoro alla luce di un mezzo che riproduce con assoluta fedeltà, con sempre maggior fedeltà la realtà luce e colore perché sono gli ingredienti fondamentali la luce e il colore sono gli ingredienti fondamentali della pittura impressionista anzi sono alla fine i soli veri protagonisti perché come vedremo i soggetti nella pittura impressionista non hanno mai un contenuto particolare si parla in effetti di pittura a contenutistica ma approfondiremo successivamente andremo ad approfondire questo concetto adesso ve lo metto lì come un segnalibro andiamo alla slide successiva per scoprire un po' qualcos'altro di questo movimento ecco la tecnica impressionista nasce dalla scelta di rappresentare solo e soltanto la realtà sensibile visto leggendo il testo qui a lato ecco in che senso diciamo che è una pittura a contenutistica nel senso che è un modo di dipingere che non prende in considerazione dei contenuti dietro a quello che si vede sulla tela si mostra semplicemente quello che vede l'occhio e soprattutto con un'attenzione particolare alla luce e al colore senza l'urgenza di rappresentare dei momenti eroici come era per esempio nel neoclassicismo o di rappresentare la forza della natatura che sovrasta l'uomo come invece era per il romanticismo con l'idea di sublime una natura che è meravigliosa e al contempo anche paurosa perché ha una forza che sovrasta niente di tutto questo l'impressionismo dove i temi sono i temi della quotidianità i soggetti sono immersi nella natura i soggetti stanno vivendo un momento di svago insomma proprio uno sguardo quello degli artisti impressionisti che raccoglie la quotidianità senza una scelta deliberata dei soggetti è come se per gli impressionisti la questione non sia tanto la scelta del soggetto ma la situazione legata alla luce al colore che si presenta per quel soggetto ecco come dire quel che conta è proprio quello che l'occhio vede in quel momento ecco non c'è assolutamente un'idealizzazione ecco qui abbiamo davanti i quattro quadri invece che parlare astrettamente il primo in alto a sinistra è il famoso papaveri di Claude Monet con un campo di papaveri vedete che quasi totalmente immerso nell'erba c'è il figlio di Monet piccolino e la moglie con un ombrellino che avanzano verso il pittore quasi li confondiamo fra l'erba e queste belle macchie di colore rosso che rappresentano i papaveri tanto sono poco definiti subito a fianco abbiamo un quadro molto famoso di Auguste Renoir il circolo dei canottieri ecco questo è un momento quotidiano di divertimento di corteggiamento di un momento proprio di vita vissuta quasi un'istantanea di un momento di svago nella vita parigina di fine secolo ecco anche questo è interessante niente di eroico niente di è ma come un momento di vita quotidiana della gioventù parigina di quegli anni sotto due momenti legati alla danza naturalmente di Degas questo grandissimo pittore che tra le altre cose si appassiona molto di danza e la dipinge con particolare cura e dedizione tre stili diversi ecco quindi vedete anche qui vedete anche tre stili diversi perché abbiamo quattro quadri due di Degas in basso in alto a destra Renoir a sinistra Monet ecco proprio tre modi diversi di dipingere che andremo anche ad approfondire quello che è interessante è questo gusto per l'innovazione questo distacco diciamo dalla retorica che caratterizzava indubbiamente il neoclassicismo ecco andiamo avanti e andiamo a conoscere il primo di questi tre artisti Claude Monet vedete che ci sono quadri molto diversi qui tutti caratterizzati però se li guardate da una non perfetta definizione non perfetta definizione delle figure ecco perché innanzitutto Monet amava dipingere direttamente sulla tela senza un disegno preparatorio è un'autodidatta anche questa è una cosa molto importante è un pittore che si forma da solo che sperimenta da solo la pittura e da solo arriva ad essere uno dei pittori più importanti della sua epoca e anche questo dice qualcosa proprio di quel distacco dall'accademia di cui vi dicevo vedete l'influenza dell'arte giapponese nel quadro in basso a destra dove sono dipinte delle ninfee vedete anche il famoso quadro in alto a destra impressione di sollevante che è il quadro che dà l'inizio al movimento impressionista che ne caratterizza i primi passi ecco sarà il quadro che farà scalpore anche nella mostra tenuta nello studio del fotografo Nadar sarà il quadro che colpirà e che riceverà le critiche più pesanti saranno molto criticati questi quadri come se voi pensate la perfetta definizione della pittura non classica non so Napoleone che attraversa le Alpi non so se ricordate o la grande odalisca di Enger o anche i quadri non so di un romantico come Gericot ecco queste sembrano macchie di colore sembra una una cozzaglia di colori buttata sulla tela in realtà naturalmente vederli dal vivo in particolare colpisce molto fra le opere di Monet vediamo anche vi ho messo in basso a sinistra anche un paesaggio urbano di Venezia è molto bello quindi questo pittore ha dipinto anche la nostra Venezia naturalmente in basso al centro abbiamo sempre il figlio di Monet e sua moglie in un altro in un altro quadro questo con ombrellino anche qui la dedizione particolare che Monet aveva per la famiglia emerge in tutta la sua la sua forza la moglie e il figlio compaiono nei quadri c'è proprio questo tributare i propri familiari un'affettuosa presenza nelle sue opere ecco se ho parlato dell'Infè a maggior ragione in alto a sinistra parlo della cattedrale di Rouen ecco quello che vedete non sono tanti quadrettini accostati in un grande quadro sono semplicemente una raccolta di alcune delle decine e decine di quadri che ha dipinto con lo stesso soggetto Monet Monet ha dipinto aveva preso un appartamento aveva preso in affitto un appartamento quasi di fronte a cattedrale di Rouen e dipinge lo stesso soggetto in tantissime tele qui ce ne sono come vedete alcune qui ce ne sono 18 ecco raccolte solo qui ne vedete 2, 4, 6 6 per 3 18 esattamente solo qui ne vedete raccolte 18 una dipinta anche di più e perché fa questo cioè perché dipinge la stessa cosa tante volte adesso nelle Ninfè ci sono diversi punti di vista diverso un diverso uso del colore invece qui proprio c'è questa costanza la stessa angolazione sempre lo stesso soggetto vedete con colori diversi ecco dipinge Monet la cattedrale di Rouen con la nebbia d'estate d'inverno col bel tempo con la pioggia con la foschia ecco che ne esce una specie di proprio di prontuario di come dire di catalogo di dizionario dove vengono raccolte vengono raccolti tanti esempi di diversa luce e diverso colore legate proprio all'atmosfericità quindi quando prima vi dicevo che la luce e il colore per gli impressionisti è molto importante lo vedete bene in questi quadri dove proprio lui dipinge lo stesso soggetto e quello che lui interessa non è sicuramente la facciata di una chiesa gotica quello che lui interessa è mostrare i diversi giochi di luce e di colore le diverse visioni che si hanno di questa facciata di una chiesa a seconda delle stagioni a seconda del tempo meteorologico ecco questo è interessante per tanti motivi perché ribadisce quel discorso sull'impressionismo come una pittura che non non ha a cuore particolare i soggetti ma quello che l'occhio vede ed è anche molto importante perché è una serie e vedremo che dopo nella storia dell'arte ancora la serialità diventerà un tema importante cioè costruire diciamo così tante rappresentazioni dello stesso soggetto e Monet è uno sicuramente è il primo a affrontare il tema della serie che come ribadisco diventerà centrale negli anni successivi lo fa sia con la cattedrale di Rouen e come vedete in basso a destra anche con la ninfè di cui ho preso un solo esempio ma lui creerà questa che possiamo quasi intendere come un'installazione dentro l'orangerie dove in questa sala ellittica potete vedere il video sul sito sia completamente circondati da delle enormi tele che rappresentano le ninfè e quasi si ha un'esperienza di immersione solo che invece di buttarci nel lago con le ninfè siamo immersi nella pittura di Monet ecco Monet aveva questo stile che non definiva non definiva gli oggetti non faceva contorni alle figure e quasi vedete anche con la moglie o nella cupola nella cupola della chiesa di Venezia vedete come quasi sembra sciogliersi nel cielo e lo stesso accade nel famoso Impressione di Sollevante dove anche qui vedete come l'acqua e il cielo si mescolano tra loro in dei riflessi di colore luce e colore sono sicuramente uno dei temi più importanti di Monet che ne caratterizzano la pittura adesso facciamo invece un artista completamente diverso ed è il nostro Degas Edgar Degas allora perché è completamente diverso beh intanto dipinge cose diverse avete visto l'attenzione per il paesaggio di Monet e invece l'attenzione invece per la figura umana di Degas quindi c'è già questa spaccatura nei soggetti perché uno predilige il paesaggio e l'altro sicuramente predilige la figura umana in particolare femminile Degas anzitutto non era un'autodidatta ma studia l'accademia nelle sue tele predilige comunque preferisce sempre fare un disegno preparatorio prima del colore e anche questo lo differenzia da Monet altra differenza da Monet Monet amava dipingere all'aperto Degas amava dipingere in studio e sicuramente fa uso della fotografia come strumento per poi preparare le sue opere un approccio totalmente diverso un interessante sguardo sul corpo ecco vedete in alto a sinistra queste ballerine con un tutù non il classico bianco ma questo bellissimo colore azzurro tra l'azzurro e il blu e le vedete in un attimo di preparazione si stanno sistemando i vestiti proprio prima di ballare nel secondo quadro vedete invece una ballerina che è stata evidentemente ripresa a teatro da un palco del teatro sapete nel teatro ci sono i palchi ecco Degas doveva avere un posto in alto e vede lo spettacolo proprio dall'alto verso il basso chissà se ha fatto uno schizzo o addirittura ha prodotto aveva un'immagine fotografica ma il nostro vedete ci dà un'angolazione molto particolare dall'alto verso il basso con questa bellissima inquadratura della ballerina che apre le braccia sembra quasi che spicchi il volo verso Degas e poi ci sono i nudi i nudi anche questi meritano un discorso perché ho avuto la fortuna di vederli a Torino sono veramente molto belli molti sono su carta sono quadri in cui vedete anche qui sembra che il pittore non ci sia e come dire sembrano immagini di assoluta anche qui quotidianità le modelle non sono in posa perché poi semplicemente non si riuscirebbe a restare in posa in queste posizioni non so chinati a prendere una saponetta Degas fotografa col suo sguardo un momento in cui il corpo come dire si mostra nella sua spontaneità ecco questa è la parola chiave come se non ci fosse il pittore mentre i nudi che abbiamo visto fino adesso erano sempre idealizzati erano sempre figure in posa erano sempre figure scusate erano sempre figure che si si mostravano consapevolmente all'artista qui invece abbiamo come una situazione in cui è come se l'artista si è nascosto queste donne compiono dei gesti quotidiani che sono gli stessi che facciamo anche oggi e vengono in un certo senso guardate riprese dall'occhio di Degas i cavalli il nostro amava andare alle corse dei cavalli quindi dipinge e in basso a destra uno dei suoi quadri più famosi pur essendo molto piccolo qui potete approfondire anche sul sito dove c'è un video dedicato a questo quadro che si chiama la classe di danza ed è molto bello anche ed è molto bello e interessante approfondire il tema della spontaneità presente nei quadri di Degas perché qui nella figura non nella figura che ci dà le spalle ma in quella un po' più in alto a sinistra c'è una ragazza che si sta grattando la schiena in fondo alla sala c'è una ragazza che sbadiglia ecco Degas non ci vuole mostrare qualcosa di perfetto ci vuole mostrare proprio tutta la fatica anche delle ballerine nel prepararsi agli spettacoli altra cosa importante vedete che ci sono degli accenni di prospettiva in Degas sia nel nudo ripiegato nella vasca sia nel quadro dei cavalli e anche nella classe di danza abbiamo la profondità ecco qualcosa che nei quadri di Monet si fatica molto molto a cogliere qui si vede proprio un po' anche la struttura accademica di Degas che tra l'altro non disdegnava di fare i contorni alle sue figure mentre Monet non fa i contorni alle figure ecco un artista che farà anche delle interessanti sculture adesso noi lo approfondiremo e lo studieremo come pittore ma sappiate che è stato anche uno scultore interessante ecco soprattutto ricordate la preparazione accademica la linea intorno alle figure e diciamo il corpo ripreso nella sua spontaneità sia che sia nudo sia che sia vestito come le ballerine in dei momenti di come dire appunto dove all'artista piace cogliere non la mess piace non essere visto ecco come se guardasse le sue ballerine e le sue modelle da dietro una tenda mettiamo ecco cerca proprio di cogliere un'immagine che sia assolutamente spontanea questo è molto importante indegare uno sguardo completamente nuovo sul corpo che farà scuola che molti andranno a riprendere ecco abbiamo adesso il nostro terzo artista che è Auguste Renoir un pittore che noi andiamo a conoscere soprattutto per la sua capacità di dipingere la vita di quegli anni il modo la vita di Parigi la vita delle città francesi Parigi in particolare in alto a sinistra abbiamo questo che è né più né meno che un quadro di una discoteca adesso a voi farà sorridere come fra cento anni sorrideranno di come ci vestivamo noi e di come erano le nostre discoteche ecco qui vedete fondamentalmente delle ragazze e dei ragazzi con gli abiti d'epoca naturalmente che si incontrano e ballano e si divertono ecco questo è fondamentalmente sto parlando del quadro in alto a sinistra dove c'è questa figura maschile di spalle appoggiata a una seggiola e una panchina da cui si affacciano due ragazze per chiacchierare il Moulin de la Galette è ora un ristorante c'è ancora Parigi naturalmente conservato come uno spazio storico e anche qui il soggetto non è importante ma è importante rendere la luce e il colore è una situazione diciamo così che documenti ancora una volta con spontaneità la quotidianità cioè che documenti la vita di quegli anni con efficacia perché ha scelto queste ragazze e questi ragazzi invece che altri perché è andata così sono capitati lì in quel momento non c'è nessuna scelta non c'è nessun non c'è nient'altro rispetto a quello che si vede abbiamo poi i due ragazzi di spalle abbiamo due ragazzi di spalle con con un quadro che le riprende in campagna e un ritratto in basso a sinistra qui abbiamo due fidanzati un uomo che corteggia una ragazza anche con l'immagine centrale in basso e naturalmente vi ripropongo il quadro che abbiamo già visto prima che è in basso a destra che sono il circolo dei canottieri dove anche qui il tema i soggetti è paragonabile a quello del moulin della galette cioè dei giovani uomini giovani donne in un momento di relax mentre mangio insieme chiaccherano si guardano sguardi che si incrociano e vedete che c'è questa freschezza in questi quadri di Renoir questo rendere la realtà senza mediazione sono quadri molto luminosi con colori molto vivaci molto vivi quello che è interessante è che sicuramente Renoir ha seguito dei corsi dell'accademia quindi diversamente da Monet anche lui come De Gave aveva studiato pittura e non a caso con un viaggio in Italia si appassionerà anche ai mestri del nascimento nostro quindi in quegli anni faceva per esempio il furore Raffaello era studiatissimo e ne rimarrà molto affascinato ne resterà molto affascinato quindi come dire scoprono poi la storia magari a posteriori anche questi artisti pur essendo artisti di rottura cioè artisti che diciamo così portano grandi novità nell'arte ecco andiamo a chiudere con i punti fondamentali con altri tre quadri a sinistra un bel paesaggio con due figure una maschile una femminile di Renoir sulle rive di un lago al centro una bella immagine di Monet e del ponte giapponese che si era fatto costruire effettivamente Monet si realizza un giardino a Giverny in questo giardino coltiva le ninfè che qui vedete galleggiare sotto il ponte giapponese e in questo giardino trascorrerà tutta la sua vecchiaia dipingendo fiori dipingendo vegetazione proprio immerso in questo giardino che si era costruito con così grande dedizione a destra a destra avete naturalmente un altro quadro con delle ballerine del nostro del nostro Degas i punti fondamentali sono la resa della luce e del colore dell'impressionismo i punti fondamentali dell'impressionismo la resa della luce e del colore abbiamo detto che non erano importanti soggetti ma come abbiamo visto per esempio nella serie della cattedrale di Rouen il il clima e le stagioni la pittura en plein air soprattutto per Monet una pittura quindi all'aperto che era stata resa possibile dai colori industriali in tubetto il cogliere un attimo questo molto caratteristico di Degas per esempio se torniamo indietro vediamo proprio in Degas questa ma anche in Renoir guardate questi due Moulin de la Galette e la Canottieri si coglie proprio un attimo oppure questi corpi femminili vedete è proprio un momento come se lui andasse proprio a raccogliere un momento caratteristico i soggetti urbani perché come abbiamo visto con Renoir ci sono molte figure calate nella vita cittadina e poi le nuove tecnologie perché abbiamo detto la fotografia e i colori industriali ecco l'arte giapponese qui la vediamo bene nel quadro centrale con questo ponte giapponese e questa passione per i fiori che aveva Monet sicuramente lui porta in primo piano questa influenza dell'arte tradizionale giapponese nella storia dell'arte occidentale sono molto importanti gli impressionisti quindi ragazzi studiatevi bene anche perché sono tra diciamo gli argomenti che amo chiedere all'esame quindi insisterei perché voi approfondiate bene questo tema dell'impressionismo ricordate in particolare questi tre autori e mi raccomando gli appunti e anche naturalmente il sito dove avete a disposizione naturalmente degli approfondimenti video con queste raccomandazioni vi saluto e ci rivedremo in classe e ci rivedremo e ci rivedremo e ci rivedremo